Allora direttore intanto auguri di buon compleanno, si festeggeranno come dire con una vittoria come sempre vuole il direttore sportivo stianese, insomma a parte le battute domani bisogna vincere perché è chiaro che la sconfitta di Sant'Agata ha rappresentato un momento di riflessione ma anche un momento che bisogna superare. Credo che il regalo più bello sarebbe domani una bella vittoria così festeggeremo entrambi le cose il mio compleanno e la vittoria su Ragorsa. Io credo che domani bisogna avere un approccio dai primi minuti importante, un approccio agguerrito, un approccio di grande voglia di riscattare la sconfitta di domenica. Ho visto una squadra arrabbiata in settimana, ho visto una squadra agguerrita e spero che domani entreranno così come li ho visti queste settimane in campo così credo che i problemi non ce ne saranno nel battere Ragusa se la squadra entrerà con questo piglio che ho visto in questi ultimi tre giorni di allenamento. Vittorio ti voglio chiedere perché bisogna credere in questa Serie D? Quali sono gli elementi che fanno propendere a questa idea? Perché qualcuno pensa che il Messina è in fuga, che potrebbe chiudere innanzitempo il campionato. Io credo che ci sono ancora, se non sbaglio, 14 partite da giocare e tutti si dovrebbero scontrare. Le prime due giornate noi abbiamo preso due squadre, secondo me due squadre forti, Camaro e Sant'Agata che la diranno fino alla fine, se la giocheranno fino alla fine con tutte le altre 4-5 squadre che sono lì a giocarsi sia i play-off che il campionato. E credo che oggi, da domani, ci saranno anche altri scontri diretti che potremmo pian piano, qualche punticino, se noi faremo risultato, qualche punticino lo recupereremo sicuro nella giornata di domani. Città di Messina sta facendo un grasso campionato e credo che si debba dare merito a questa squadra che comunque non ha mollato, sta lì e si sta difendendo con la forza e con la voglia di fare bene. Stanno facendo bene, inutile dirlo, ma contano i fatti. Purtroppo oggi il Città di Messina è primo e dobbiamo dare atto che è una squadra che sta facendo un grosso campionato. Vittorio, per chiudere questa intervista, all'andata dopo tre partite lo Scordia aveva tre punti, adesso dopo due partite ce ne ha già tre e domani c'è la possibilità di riscattare forse la più brutta partita di tutta la stagione, quella a Ragusa, non dimentichiamolo, perché poi lo Scordia ha giocato sempre bene. Sì, sì, no, no, io ci tengo particolarmente a questa partita domani perché comunque dobbiamo riscattare subito parte dall'andata della brutta prestazione che abbiamo fatto a Ragusa, ma poi dalla partita, secondo me è stata l'unica prestazione più brutta che abbiamo fatto quest'anno, al di là della scompitta di Sant'Agata perché alla fine poi a Sant'Agata ci hanno condannato gli episodi e al loro favore, qualche sfortuna abbiamo avuto perché abbiamo avuto qualche infortunio sui gol, però, ripeto, dobbiamo voltare pagina velocemente e cercare di, sai, di domani dare quella scossa, quella forza, quell'impronta che abbiamo dato fino ad oggi e la dobbiamo continuare a dare facendo un ottimo risultato. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS